Perchè è importante rimanere qua? Questa è la prima cosa che abbiamo lanciato, un appello internazionale di artisti, filosofi, direttori di musei. Ogni giorno ci arrivano adizioni. Io credo che dobbiamo gonfiare questa piazza per tutti i giorni. Non ha potuto consentire di usare questa parola, non ha potuto trattare i ragazzi di questa iniziativa. La gente deve poter affluire in questa piazza! Alcuni di noi è vicino al museo del principato di Monaco, il direttore del museo. Il gruppo eccetera, di Buenos Aires. Noi di qua non dobbiamo muoverci, dobbiamo continuare la lotta qua, perché è il centro vitale del nostro discorso. La gente viene a cercarsi qua, anche se adesso non sono con noi, non è un senso dei tipi vaccinali. E' un'altra incredibile, appena iniziale. Vuole dire che una risposta da parte della città ci è stata. Dice di essere il governo di una città, vuole dire che deve e può governare quello che ha sempre. Il governo di una città è un grande cielo dei sogni che è stato preso dalla città. Grazie a tutti.